ho portato i vostri saluti qui alla chiesa le pesiche ho visitato in questo periodo e tutte le chiese anche stanno pregando per il mio figliolo che ho già raccontato ciò che è successo nell'altra opportunità che mi è stata concessa e lunedì 5 prossimo settembre a dio piacendo vi parteciperò tutte le analisi come stanno andando perché so che state pregando quindi vi voglio anche partecipare di questo ma posso già preannunciarvi che dio sta compiendo un'opera straordinaria nella vita anche di mio figlio non solo nello spirito ma anche nel e tutto questo è per noi davvero vivere le cose di dio per noi sono un miracolo ecco perché oggi ho messo questo piccolo titolo stamattina quando ho avuto questo questo invito chiamando appunto questo momento di riflessione il sogno di dio per te e leggiamo in il vangelo di matteo al capitolo 28 dal versetto 16 al 20 che tratta appunto anche questo argomento l'apparizione di gesù in galilea ora gli undici discepoli andarono in galilea sul monte che gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono alcuni però dubitarono poi gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra sulla terra andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente a me lo sappiamo che gesù cristo possiamo dire che per me parlo personalmente il più grande rivoluzionario di tutti i tempi oltre che ha sconvolto la mia vita ha cambiato anche l'ordine di intendere la religione del rapporto tra dio e l'uomo ha cambiato l'ordine del tempo noi viviamo prima e dopo cristo gesù cristo ed avere un più grande uomo che sia venuto sulla terra a portarci il messaggio dell'evangelo si vero uomo e vero dio perché lui ha è stato rivestito dalla gloria di dio per poter come dire compiere tutto quello che il padre l'aveva invitato a fare bene gesù nasce duemila anni fa e viene per anche per cambiare un paradigma cioè quello che era il rapporto tra dio e l'uomo così come era vissuto dal popolo di israele fino a quel momento c'era una vita religiosa legata soprattutto ad avvenimenti che caratterizzavano lo scandire del tempo con il le visite alla sinagoga al tempio come sappiamo e questo ovviamente non era sufficiente ecco perché gesù è venuto su questo su questa terra a cambiare letteralmente questa missione ecclesiologica che aveva la chiesa cioè che era dedita solo a se stessa come sappiamo la sinagoga appunto viveva di se stesso e addirittura al tempo di gesù perseguitò coloro che seguivano il maestro quindi era come gesù stesso raccontò nella parabola dei talenti nella parabola chiedo scusa dei vignaioli malvagi racconta appunto che la chiesa era diventata proprietaria letteralmente del popolo c'è ovviamente il golgota coloro che dirigevano la chiesa avevano questo come dire questa presunzione di essere i dominatori sul popolo e questo ovviamente non era vero con la venuta di gesù tutto questo cambia e come abbiamo visto quando gesù lascia questa terra dice andate quindi passa da un ministerio ecclesiologico il rapporto tra dio l'uomo ad un ministerio missiologico quindi andate per il mondo e gesù lo mostra questo sin dalla sua nascita riflettevo oggi sì perché quando lui nasce noi nasce a betlemme che dista appena 40 minuti da da gerusalemme e noi sappiamo secondo le scritture che lui nasce durante la pasqua ebraica come appunto recita luca capitolo 2 dice ci dice appunto che i genitori erano abituati ogni anno ad andare ecco la questa abitudine questa consuetudine ad andare in gerusalemme ad adorare nel tempio e la traduzione della giovanni dio dati ci dice che quando gesù compì dodici anni quindi gesù nasce durante la pasqua ebraica loro vanno appunto ad adorare è interessante notare che sono dei particolari che ci dicono che questo era profondamente vero tant'è vero se ne leggiamo viene scritto sempre in luca che il gli alberghi l'albergo era non c'era posto in albergo perché non c'era posto vuole dire betlemme era una città normale un paesino non era niente di eccezionale come mai non c'era posto non c'era posto perché betlemme distando appunto pochi poco tempo da gerusalemme era invasa letteralmente da tutti quelli che durante la pasqua andavano a visitare il tempo ecco perché non vi fu posto ecco abbiamo delle ulteriori conferme a tutto questo quindi gesù sin dalla sua nascita mette una sorta di come dire punto su questo aspetto il ministerio missiologico tant'è vero c'è scritto che tutta gerusalemme fu turbata dalla notizia quale che i magi and oriente questi studiosi degli astri andarono in gerusalemme per adorare chi il re di giudei e tanto fu turbata erode il grande che chiamò i satrapi saducei farisei per sapere su questo re che era nato e c'è scritto che tutta gerusalemme appunto fu turbata da questa notizia quindi seppero che attraverso le scritture con scritture come recitato il profeta michea che in betlemme sarebbe nato il re di giudei ora che cosa succede il popolo non si reca a visitare gesù ma rimane in ecclesiologia nella chiesa nel tempio e nella sinagoga a fare che cosa a celebrare un rito religioso mentre il salvatore del mondo era lì a meno di un'ora di cammino ora è tanto evidente questo che questi magi cosiddetti chiamato chiamati magi loro vanno invece a visitare chi il signore e noi che dobbiamo andare incontro il signore il signore sta lì di braccia aperte e gesù fa questo per tutto il suo ministerio ricordiamo manda i suoi discepoli già prepara l'invia proprio per cominciare a spandere questa notizia straordinaria che dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna per la prima volta si sente parlare di vita eterna gesù è davvero un rivoluzionario cambia tutte le regole cambia ogni paradigma religioso e va incontro all'uomo con una parola straordinaria bene gesù sappiamo che conclude il suo ministerio con nel capitolo di 24 di di matteo ad esempio con una frase che è emblematica o perlomeno con una una delle fasi più importanti quando gesù dice è questo vangelo quindi questa verità quando sarà predicata in tutto il mondo allora verrà la fine gesù parlava 11 uomini perché giuda era ormai purtroppo destinato dal suo proprio dalla sua propria concupiscenza come si è parlato prima di avarizia no e non a caso e quindi parla 11 uomini se io fossi stato tra quelli 11 tra gli altri che non erano convertiti come gesù recita appunto a pietro io mi sarei detto ma che cosa sta dicendo questo uomo si sta facendo delle cose straordinarie ma tutto il mondo si ascolterà questa in questo nostro parlare in tutto il mondo è impossibile e questa è la verità che dio davvero il figlio di dio e che è venuto a salvare ciò che era perduto perché noi oggi stiamo parlando ancora di questo alcuni anni fa intorno al 2015 se non mi manca la memoria io ho ascoltato una predica online di un pastore chiamato cunningham che lui aveva questo ministerio da parte del signore che aveva avuto addirittura in maniera miracolosa una piccola isola nell'arcipelago delle hawaii spero di pronunciarlo bene e quindi aveva ricevuto questo incarico da parte di dio di tradurre la bibbia in tutte le lingue del mondo e lui in questo straordinario percorso di vita con il signore racconta dice testualmente che entro il 2020 il mondo intero avrà ricevuto la bibbia in ogni lingua possibile ed immaginabile stiamo lavorando con questa università nella questa isola affinché tutto ciò avvenga nel 2020 è passato che cosa è successo nel 2020 cari del signore è nel 2021 mi sa che non ci aveva proprio visto male il nostro signore a dirci che quando questo vangelo sarà predicato sarebbe iniziata la fine quindi il 2021 dovrebbe essere iniziata l'ultima settimana di daniele staremo a vedere nel proseguo del tempo cosa accadrà detto questo gesù ritorniamo a questo andate questo andate a predicare l'evangelo e battezzandoli nel nome del padre del filo dello spirito santo insegnando che cosa c'è lasciando un segno inculcato nelle per ad osservare tutte le cose che vi ho comandato ossia la legge non è stata abrogata per il contrario gesù è venuto come dicono qui ad apertare cioè se tu guardi una donna con il desiderio di concupire con lei ha già peccato nel tuo cuore quindi gesù non è venuto ad aprire le porte solo alla grazia e tutto diventa grazia c'è l'obbedienza ai comandamenti e dobbiamo stare molto attenti ma non ce la possiamo fare ecco perché il signore ci dice io sarò con voi fino alla fine dell'età presente con la sua presenza col suo santo spirito noi possiamo farcela e come perché lui è colui che ci preserva dagli altri spiriti del male quando lo invochiamo quando l'abbiamo accettato nel nostro cuore quando abbiamo fatto riempire il nostro cuore dalla sua presenza bene la chiesa si sparse con l'andare del tempo sappiamo anche a causa della persecuzione quindi questo andate fu anche causato dalla persecuzione quindi le persecuzioni sono state una volontà di dio non perché dio ha perso il controllo l'esatto contrario perché altrimenti dicevoli sarebbero rimasti in gerusalemme la persecuzione ha portato loro ad andare di paese in paese se leggiamo gli atti degli apostoli abbiamo questo in una maniera straordinaria come paolo veniva perseguitato e lui continuava ad andare di città in città aprendo nuove comunità aggregando nuove persone al greggio alla alla chiesa del signore e parlando di chiesa come non ricordare da subito l'avvento dello spirito santo come abbiamo detto perché il signore l'aveva promesso quindi lo spirito santo viene subito dato nell'atto cinacolo queste 120 che erano lì presenti guardate il primo atto è straordinario a primo atto che lo spirito santo compie qual è quella di far parlare questi uomini in altre lingue quindi no no in altre lingue così in lingue di tutte le persone che erano lì fuori a che ascoltavano quindi gente di europei no indo europei del mettere tantissime popolazioni lì che stavano ascoltando che cosa per la prima volta glorificare dio chiamare magari il nome di gesù essere evangelizzati nella propria lingua da dei giudei che non avevano rapporti con loro e questo è straordinario vedete come il signore questo andate si sparge immediatamente con l'ausilio proprio delle tute di questo traduttore simultaneo straordinario che dio mette in pratica sia un traduttore simultaneo e dio poi si è servito anche di altri sistemi la chiesa non è non deve essere legata solo a quattro mura pensiamo solo un attimo ciò che è successo del 2020 le chiese chiuse a causa di quello che sappiamo ebbene che cosa dovevamo fare noi restare in quattro mura no andate per il mondo purtroppo con l'andare del tempo dobbiamo dirlo fino al 2020 la chiesa è ritornata adesso è ecclesiologica a chiudersi in se stesso a dimenticarsi quasi che c'è una chiamata missionaria ad uscire e il signore anche in questa circostanza ha chiamato tante persone ad uscire fuori come attraverso lettere molti noi avevamo già da cinque anni iniziato questi culti online ea e questo è stato per noi una possibilità tante persone al contrario possiamo dire che è stato già detto in altre circostanze le chiese si sono svuotate in parte è vero ma tante altre sono entrate online tanta gente entrata online che non conosceva l'evangelo quindi si sono anche avvicinati a gesù attraverso lettere attraverso parole di vita attraverso i fratelli e le sorelle che si sono mobilitati quindi non è vero che siamo diminuiti siamo sicuramente aumentati è aumentata e cambiata la come dire il pragmatismo siamo diventati un pochettino più legati a internet siamo stati più un po più attenti a taluni circostanze e siamo diventati anche meno religiosi perché le difficoltà ci hanno portato a cercare di più il signore a me quindi siamo ritornati ad una messiologia che via etere paolo a un certo punto che cosa dice nei suoi scritti in prima il corinto tessalonicesi dice diverse volte che questa lettere questa lettera si alletta in tutte le comunità immaginate se paolo avesse avuto internet sarebbe stato felicissimo di condividerla per questo però è successo sapete che cosa che dopo il 2020 2021 quando i fratelli o qui il nuovo convertito si è un po legato anche queste chiese online a questi punti online a seguire qualche qualcuno ha avuto da ridire c'erano la chiesa deve essere quattro mura e mi sono arrivati molti molti reclami addirittura sorelle nuove convertite che poi hanno chiesto al pastore perché li ho invitate per esempio ad andare in chiesa ad avere una comunità fisica appena qualche pastore qualcuno non tutti ovviamente grazie a dio hanno sentito di questo se no voi non dovete più seguire queste 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 predicazioni questi questi culti questi studio online fratelli nel signore non è così che funziona perché noi abbiamo dato un supporto incredibile parole di vita da un supporto incredibile quindi è importantissimo fare questo questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme uniti perché come abbiamo visto appunto nel 2020 c'è stato questo fatto terribile che hanno chiuso le chiese che dobbiamo fare gesù si ferma assolutamente no noi abbiamo avuto questa grande opportunità di proclamare il ministerio via etere e via si garantisco che ha funzionato io ho famiglie interi che hanno accettato gesù hanno cominciato a conoscere il signore hanno cominciato a ravvedersi in questo periodo e gli ho indicati nella sicilia ad esempio di seguire una comunità come è successo in catania che sta succedendo in varie parti d'italia noi li spingiamo ad avere una comunità fisica dobbiamo avere un lavoro sinergico è stato detto tante volte che dobbiamo essere uniti non possiamo denigrare la chiesa online perché questa chiesa il lavoro che sta facendo la chiesa online perché questo è un lavoro fondamentale gloria sia data al nome del signore e non solo nella circostanza del come dire del 2020 no delle chiese chiuse ma il sottoscritto per esempio io vi ho raccontato all'inizio di mio figlio ciò che sto sto stiamo passando ma il nostro spirito è al cento per cento forte nel signore non abbiamo problemi non abbiamo dubbi sulla possibilità che il signore possa curare nostro figlio e anche comunque vada non abbiamo dubbi che il signore il nostro salvatore bene dicevo lunedì martedì scorso siamo stati fuori ci siamo usciti per una serie di esami martedì siamo stati addirittura mio figlio ne ha fatti due la mattina e il pomeriggio siamo stati oltre 50 chilometri abbiamo fatto di cammino di di auto qui perché non sono vicine le strutture e abbiamo anche mangiato fuori casa nel pomeriggio siamo arrivati grazie a dio non tardi io mi sono messo qui sull'amaco come sono mio solito riflette a pregare ringraziare il signore ea chiedere ancora aiuto e soccorso per la mia famiglia era afflitto posso dirlo fisicamente ero afflitto allora che cosa ho fatto ho accesso non ero ci sono i momenti che non hai neanche la forza di pregare ho preso il telefono legato a parole di vita mi sono collegato a parole di vita non appena il pastore pietrone ha dato l'opportunità a claudio carlucci pastore di matera no della basilicata e mi sono ascoltato a questo caro fratello pastore che io voglio incoraggiare incoraggiare il signore mi ha dato un incoraggiamento attraverso questo pastore incredibile perché mi ha ricordato ecco la memoria che dobbiamo avere ciò che mi era successo anni addietro e nella fattispecie quando il signore mi aveva chiamato al ministerio ad uscire da quel lavoro che facevo che avevo questo pub in italia sedici anni fa chiusi la bireria tutti mi si mi girarono le spalle tutti indistintamente non sto quasi ad andare nel sottile anche molti fratelli nella chiesa non furono d'accordo con questa mia decisione io dissi mai signore che mi ha chiamato bene questo signore mi ha chiamato dura quattro anni e io non trovare un altro impiego allora cominciai nel mio cuore a dubitare non saltai un culto non saltava un culto non mancavo in chiesa perché era tutto per me ma ecco ero diventato anch'io ecclesiologico mi ero legato ad un luogo e non riuscivo a vedere oltre bene nel nel lontano appunto dopo quattro anni vengo chiamato dal pastore per un problema che c'era nel campeggio a ruvo del monte io gestivo bar appunto la caffetteria e quant'altro e vengo chiamato a gestire quella del campeggio a ruvo del monte vado avevo problemi di giramenti di testa perché era andato appunto in depressione si un figlio di depressione può succedere a me è successo e senza saltare un culto e arrivo lì e e di sin dal primo giorno il signore mi parla e comincia a parlarmi signore tu non sei qui per caso e quindi comincia a lavorare comincia a riprendermi diminuisce il giramento di testa comincia a sentire veramente quel trasporto fino a quando vengo invitato a lavorare notte giorno praticamente su questo questa caffetteria facevo i cornetti di sera e cominciare a lavorare feci il giorno di ferragosto 250 cocktail analcolici solo per farvi comprendere come mi stavo riprendendo e quindi arrivai stanco la sera del culto al punto che lì su questo a ruvo del monte iniziò la il culto e io ebbi un colpo di sonno sì giovanni brancaccio ebbe un colpo di sonno all'inizio ero talmente stanco che gli inni la musica non facevano alcun effetto io inizia a dormire in chiesa per la prima e unica volta quando poi incominciò la predica e posso anche nominare il caro e fratello pastore archetto che posso anche incoraggiare lui per il suo ministerio io mi svegliai letteralmente perché lui anche una voce bella squillante e quando mi svegliai mi guarda intorno ero sicuro che mi avevano notato che stavo dormendo che stessi dormendo allora cominciai a piangere cominciare a piangere in maniera come un bambino proprio era inconsolabile perché dico dove mi sono ridotto depresso mi metto a piangere in chiesa mi metto a dormire in chiesa che cos'altro mi manca e dentro di me in quello sconforto e cominciava una voce ancora più non dobbiamo ascoltare le voci negativi carine signora mentre il signore mi stava parlando e ascoltava un'altra voce che mi diceva è così perché dio si è dimenticato di te tu sta in questa condizione semplice perché dio si è dimenticato di te non hai più lavoro ti stanno finendo i soldi e tutti ti hanno abbandonato non ha senso quello che stai facendo qui non ha senso dio si è dimenticato di te ma mentre quella voce voleva prendere il sopravvento il mio orecchio fisico invece ascoltava e cominciò ad ascoltare la voce del signore che mi diceva giovanni non ti ricordi quando e quante cose ho fatto per te guarda bene guarda dietro quanti cose abbiamo fatto insieme io non mi sono mai dimenticato di te se non fossi stato con te mentre io avevo gli occhi chiusi tu avresti fatto di peggio e io ho visto letteralmente la mia morte perché avevo pensato anche al suicidio il gesto insano che mai dobbiamo pensare scacciare sempre nel nome di gesù c'è ma tu figlio di dio io ho passato questo fare fratelli e sorelle non posso mentire a voi e tantomeno figuriamoci al mio signore e allo spirito santo passei per questa di fi grande difficoltà e il signore comincia a parlare comincia a rincuorarmi al punto che io per un'ora e sei minuti perché ho registrato questo studio questa predica chiedo scusa cominciai a tirarmi pizzichi in faccia a fartelli nel signore perché noi diciamo sempre il signore parla durante il culto ma in quel culto il signore andò oltre ci fu un dialogo tra me e lui dopo un'ora era super convinto che il signore mi stava parlando mi stava incoraggiando dicendomi giovanni noi faremo cose straordinarie insieme e questo voglio incoraggiarti fratello nonostante tu possa essere depresso in questo momento sotto grandi problemi il signore vuole fare cose straordinarie con te devi alzare la testa caro del signore e io feci questo il signore mi disse se io oggi ti dovessi raccontare ciò che faremo insieme tu non ci crederai ebbene sono passati 12 anni vivo in brasile non lavoro più non vi posso dire come il signore mi sostenta è incredibile tutto questo il signore è fedele io credete a quello con tutto il mio essere finito il campeggio mi fu data l'opportunità quella sera di testimoniare e testimoniai questo il io il signore abbiamo parlato durante il culto fu straordinario ritornai a bari e il signore mi disse adesso tu passerai dall'altra parte dell'oceano viaggerai a piedi asciutti senza problemi e cominciò ad incoraggiarmi così l'ultimo giorno io che avevo come dire da stare in italia e per viaggiare per il brasile il signore mi parlò e mi disse sempre attraverso la sua parola non lasciare prima dell'inizio della predica il pastore a modugno disse c'è un fratello che è entrato in chiesa facendo una domanda al signore in preghiera quindi poniamo questo davanti a dio interroghiamo il signore perché il signore ci risponde e il signore questa sera ti sta rispondendo e mi disse prima della predica queste parole il signore non le ho dimenticate non le dimenticherò mai non lasciare che nessuno uccida il sogno che hai nel tuo cuore se viene uno scienziato un medico qualsiasi persona ti dice che tu hai sbagliato non gli credere perché il sogno che tu hai nel cuore sono io che l'ho posto bene il fratello carlucci il pastore carlucci ha ripetuto quattro cinque volte nella sua predica questo che il signore ha posto nel tuo cuore un sogno non ti abbattere continua ad andare avanti e io ero abbattuto per le vicende di mio figlio e mi sono rialzato immediatamente quando mi sono ricordato di tutte le promesse di dio tutte le promesse di dio e dio ha fatto promesse ad ognuno di noi sono promesse eterne amen cari nel signore e questo è semplicemente straordinario il signore mi ha aperto un avvio sono venuto in brasil a foto ogni 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 regola ecclesiologica che io avevo ho cominciato a predicare l'evangelo in ogni dove nell'interiore abbiamo predicato davanti a case di paglia con una sola lampadina abbiamo io ho visto costo straordinario perché io con lo spirito santo io non sono nulla senza di lui non posso fare nulla e sono il primo che si sorprende di tutto questo mi ha dato questa possibilità di aprire un canale online abbiamo un canale telegram abbiamo adesso anche delle prediche che possiamo passare ogni sabato da cinque anni entriamo nelle case entriamo in ogni dove e ringrazio il signore per parole di vita perché stiamo diffondendo una grande notizia che gesù sta per tornare come vi ha detto poc'anzi il 2021 è un anno particolare è iniziato qualcosa che stiamo vedendo che ci sta ci sembra che ci stia portando verso un abisso ma non è vero stiamo andando incontro all'evento più importante di tutti i tempi cioè il ritorno del signore amè e voglio voglio chiudere questo mio momento ringraziando ancora il signore con ciò che proprio fu detto in già negli atti degli apostoli in maniera profetica sia per loro che per noi visto che si tratta appunto di un argomento è attualissimo che stiamo parlando ormai da diversi giorni in effetti in atti 2 17 non appena lo spirito santo fu dato e cominciarono a parlare in altre lingue ci furono tante persone che cominciarono ad interessarsi è chiaro perché non c'era più il giudeo che parlava ma parlavano le lingue in translate come dicono qua il traduttore simultaneo cominciò a toccare i cuori di ogni persona e la parola di dio disse dice appunto pietro si esprime in questo modo a tutta quella gente e oggi a tante persone che ascoltano questo messaggio che l'ascolteranno il signore dice queste parole e avverrà negli ultimi giorni dice dio che spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi guardatemi i capelli bianchi sogneranno dei sogni fratelli e sorelle dio ha preparato dei sogni per noi straordinari in quei giorni spanderò il mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno e faranno prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra sangue fuoco e vapore di fumo il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del signore e avverrà che chiunque fratelli e sorelle chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato questo è semplicemente straordinario che cosa è se non l'amore di dio che è sparso sopra ogni creatura cari nel signore ogni strumento che il signore ci ha dato è lui che ha creato l'etere è lui che ha creato gli strumenti che noi abbiamo sono sempre dovuti all'intelligenza umana ma che dio ha posto in essere quindi non denigriamo gli strumenti che dio ci mette a disposizione ma anzi usiamoli sinergicamente insieme per poter portare la verità laddove il signore ci manderà amen che il signore ci benedica benedica parole di vita e tutti i miei fratelli e le mie sorelle che predicono la venuta di gesù cristo perché questo è l'evento che caratterizzerà il nostro tempo il signore ci benedico voglio fare una piccola preghiera di 30 secondi per ringraziare il signore voglio dire signore padre celeste io ti ringrazio per le opportunità che ci doni tu ci hai fatto ambasciatori signore del tuo regno del nostro regno dove noi andremo a stare con te per l'eternità signore tienici fedeli fermi fino alla fine signore che nessuno si perde ma che tutti giungano rapidamente ti ringraziamo benedici un pastore petroni il suo ministero tutti i suoi collaboratori tutti quelli che professano gesù cristo come unico signore salvatore di questo mondo ti ringraziamo padre voglio ringraziarti per questa opportunità e ogni cosa la metto nelle tue mani in cristo gesù e benedetto in eterna a me